E poi, come devo fare? Dopo che? Ho capito. Dopo fanno quattro gara, ma non è gara che fanno. Ma chi fa lo che è? Allora, abbiamo capito. Abbiamo capito. Allora, c'è un numero uno, numero due, numero tre, numero quattro, numero cinque, lo stesso numero uno, due, tre, quattro cinque. Di totale, ma che cosa mi fai di mezzo di roba davanti? Allora, dovrete fare questo. Io parlo in italiano, e spero che mi capissano tutto, soprattutto quelli che sono... Se volete parlare in Bergamas, se volete parlare in Bergamas, ok. Allora, voi!